Ehi, Simone, è questo la cosa che mi hai detto? È questo la cosa che stiamo facendo? Senza fretta non è una ritrosfettiva, è una mostra che parte da un nucleo di opere ben preciso, le news animation, quindi delle performance che Simon Forti pensa in relazione alle notizie date dai quotidiani, quindi reagendo con il suo corpo a queste notizie. Però intorno a questo nucleo di performance fatte per il video, tutto sommato poco conosciute non solo in Italia ma anche internazionalmente, soprattutto nella loro completezza, la mostra articola poi una serie di lavori che utilizzano altri linguaggi, altri mezzi. Quando ero andato a trovare Simone a Los Angeles, siccome sapevo che Simone spesso i titoli li trova aprendo a caso un libro di poesie di William Carlos Williams, ho chiesto se potevamo usare lo stesso metodo per trovare il titolo di questa mostra e quindi aprendo a caso queste pagine ha messo il dito su queste parole che tradotte in italiano e senza fretta e ci è sembrato immediatamente un titolo perfetto. Le cose per Simon Forti accadono quasi casualmente in una sorta di improvvisazione, è un elemento che troviamo nella sua pratica. Abbiamo voluto introdurre questo sconfinamento continuo tra linguaggi, il disegno, la performance, la scultura, il suono, sono tutti elementi che sono assolutamente presenti all'interno della mostra e che si fondono. Abbiamo pensato a una modalità in cui il percorso potesse diventare un'esperienza immersiva. Prima di tutto c'è stata la volontà, insieme a Simone, di provare a offrire uno sguardo diverso del suo lavoro e dall'altro di adattarsi allo spazio e di rendere una mostra che ha una parte performativa, quindi ha una parte live, che però non è costante. Ed è il suono forse l'elemento che fa un po' da collante all'intera mostra. Quindi è un suono pensato ad hoc, con un collage di opere che Simone ha fatto col suono, delle canzoni e la voce stessa di Simone che legge degli estratti di un libro. Le performance di Simone vengono tramandate. In questo caso specifico, Sarah Swenson, che è una delle più strette collaboratrici di Simone, ha seguito tutta la gestazione della mostra, la scelta delle performance e la loro rimessa in scena. Questa è una scelta di Simone, è fatto, e è fatto la stessa forma ogni volta, e questo non è quello che fa. Quindi è un tipo di stereotipo di quello che è un choreografero. E credo che perché fa così diversi tipi di movimenti, non è solo il movimento del corpo, ma, per esempio, il movimento del cloth, è il movimento di quella piece. Quindi un artista di movimento non solo creerà movimento per il corpo fisico. Simone ha una necessità di relazione con i suoi performer. Non dobbiamo dimenticarci che parte fondamentale del suo lavoro è l'insegnamento, e quindi appunto la trasmissione delle sue performance e del suo lavoro. Per questo motivo ha pensato di fare un video per i performer di Prato, ma li ha voluti anche conoscere con una chiamata su Zoom per raccontare il suo lavoro, ma anche per dare loro la libertà di viverlo e di farlo proprio. Ciao a tutti i performer. E' meraviglioso che stai iniziato a essere iniziato da questi pezzi, da come ho iniziato a essere iniziato da queste pezzi che sono venuti prima di me. La dimensione politica di Simone è nella sua poetica, è in un tipo di lavoro che crea un sistema di relazione tra lei, gli altri perform e il pubblico. È un lavoro molto poetico e che si presta ad essere letto da tutti, anche da persone che la incontrano per la prima volta in modo molto, molto eterogeneo. E questo per me è l'aspetto anche più bello e più coinvolgente di Simone, soprattutto quando si ha la fortuna di vedere le performance dal vivo. Io credo che la ragazza di Simone parla alla pubblica è perché sono riconoscibili dal spectatore come qualcosa che hanno fatto, o che hanno visto, o che possono fare. Per esempio, Scramble è solo persone andando. So, a lot of her pieces just have the quotidian activities. Walking, running, falling, climbing, hanging, talking. To do the simplest things means letting go of a lot of what we've learned so that we just walk normally. We sing. The hardest thing for some people to do, especially trained dancers, is to just let go of their technique and do these very simple, ordinary things that are just part of having a human body. There's no training. There's no training. The training is to let go of the training. You know? Blackbird, fly into the light of the dark black of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these second eyes and learn to see all your life. to be closer to the undertwi turn. You can only use our solidarity in a city by trying to get us See wasteoly. Caught that not mono, butflo emple est little. Let go of that. Here it is. This time in chrome area like a horse with nothing provider It's money.